Corte Malatestiana per rivi... Musica, danze e figuranti in abiti d'epoca. Si intitola Concerto Segreto delle Dame, musiciste selvagge nel tardo rinascimento, lo spettacolo che andrà in scena venerdì sera alle 21.15 alla Corte Malatestiana di Fano. L'iniziativa che rientra nell'ambito della rassegna di arte e cultura, impronte femminili, riuscirà a catapultare i presenti nel tardo 500. Uno spettacolo pensato e costruito per questo spazio che vogliamo restituire alla città proprio nella lettura filologica di quello che può essere avvenuto nel tardo rinascimento e questo è anche un modo per farlo vivere nel modo più opportuno. Quindi uno spettacolo lirico-letterario e una cornice preziosa per la nostra città. Tre musiciste, tre dame e altrettante donne alla Corte di Alfonso II d'Este racconteranno il talento e gli umori di alcune artiste travolte dal successo e poi vittime degli intrighi di corte. Verrà raccontato anche l'ultimo giorno di vita della cantante e musicista Anna Guarini prima di essere barbaramente uccisa. La donna verrà interpretata dal soprano Giovanna Donini. C'è stato un grande lavoro di ricerca. Sì, dal punto di vista letterario con Antonio Gabbiani e Daniela Luigi di libraria, palcoscenico del libro. Un lavoro di intesa e di ricerca molto lungo, due anni tutti e poi dal punto di vista musicale per trovare aree che potessero essere non solo filologico, dal punto di vista filologico musicale ma anche che potessero essere contestualizzate con le dame come Luzasco Luzaschi che ha scritto proprio per il concerto segreto delle dame. Grande lavoro è stato fatto da Anna Zanotti, l'altro soprano che sarà nello spettacolo Laura Peperara perché ha fatto una grande ricerca musicale. Quindi è un lavoro corale. All'evento prenderanno parte anche 30 componenti del gruppo storico La Pandolfaccia che si è occupato della ricerca di abiti e danze di quel periodo storico. Entrati come figuranti nel 2020, quest'anno siete diventati co-organizzatori dell'evento. Sì, quando ci hanno presentato il progetto è subito stata una cosa coinvolgentissima e quindi purtroppo la pandemia l'ha sospeso. Quest'anno c'era bisogno anche di un supporto in più e quindi siamo entrati a pieno supporto a dare una mano alla realizzazione di questo bel progetto e l'abbiamo talmente sposato che diventa l'anteprima del Palio delle Contrade. Quindi il venerdì del Palio delle Contrade diventa il concerto segreto delle dame. È un progetto comunque importante soprattutto anche per la location e per il progetto che viene sviluppato e quindi siamo entrati a pieno titolo e siamo felicissimi di farne parte. L'evento sarà d'ingresso gratuito ma è obbligatorio alla prenotazione 200 circa i posti disponibili.